Quali sono i diversi sintomi del cancro del labbro? Il cancro del labbro è una malattia in cui le cellule tumorali anomale crescono in modo incontrollabile su una o entrambe le labbra. Questa è una forma relativamente rara di cancro e tende ad essere facile da trattare fino a quando viene diagnosticata nelle sue prime fasi. I sintomi comuni del cancro del labbro includono lo sviluppo di un nodulo sul labbro, sanguinamento dal labbro, o gonfiore della mascella. Il trattamento per il cancro del labbro può includere la chemioterapia, la radioterapia o l'intervento chirurgico. La presenza di una lesione o di una ferita che non guarisce è spesso uno dei primi sintomi del cancro al labbro. Di tanto in tanto la ferita può iniziare a sanguinare, sebbene non sia sempre così. La piaga può quindi svilupparsi in una massa grossa e scolorita. Se ci sono dei cambiamenti nella piaga che si sviluppa sulle labbra, un medico dovrebbe essere consultato immediatamente. Strane sensazioni del labbro come il dolore inspiegabile o il torpore possono essere sintomi di cancro al labbro. Questa è una preoccupazione particolare se il nodulo sul labbro ha iniziato a cambiare di dimensioni o colore. È importante notare che alcuni pazienti non avvertono alcun tipo di dolore tra i loro sintomi di cancro al labbro. Ghiandole gonfie nel collo possono anche essere tra i possibili sintomi del cancro del labbro, specialmente più tardi nel corso della malattia. Mentre le cellule tumorali continuano a crescere e a diffondersi, il cancro può spostarsi nelle ghiandole linfatiche, causando il passaggio delle cellule tumorali in tutto il corpo. Se il cancro si diffonde nel resto del corpo, il trattamento diventa molto più complicato. Difficoltà a masticare o deglutire sono sintomi del cancro del labbro relativamente comuni. Questo è spesso dovuto a quanto strettamente interconnessi i nervi del viso sono intracciati. Il gonfiore della mascella può anche svilupparsi come risultato della pressione sui nervi circostanti. Alcuni pazienti possono anche iniziare a notare cambiamenti di voce. Spesso si possono sviluppare chiazze rosse o bianche sulle gengive, sulla lingua o sul rivestimento della bocca. Denti allentati, alitosi e dolori alla bocca sono altri potenziali sintomi del cancro al labbro. Un mal di gola che non va via nonostante i tentativi di trattamento può essere presente nei pazienti che hanno un cancro al labbro. Eventuali sintomi fastidiosi devono essere segnalati ad un medico il più presto possibile. Il cancro del labbro è curabile e il paziente ha una probabilità molto alta di avere un recupero completo quando il tumore viene diagnosticato e trattato nelle prime fasi.